Alla settima edizione di Art in Vita, il Festival Internazionale degli Abruzzi, in programma dal 26 aprile al 12 maggio, parteciperà anche il coro di Ateneo Uda in Canto, diretto dal maestro Cristian Starinieri. Aperto a tutti gli studenti ed ex studenti e ai dipendenti dell'Università d'Annunzio, il coro, recentemente ricostituitosi sotto legida dell'Associazione Musicale e Culturale di Ateneo Uda, presieduta dalla professoressa Elisabetta Di Mauro, ha il compito di promuovere l'immagine dell'Annunzio in ambito regionale, nazionale e internazionale, come spiegato dal professor Liborio Stuppia, magnifico rettore dell'Università d'Annunzio. Ci aiuta a portare avanti il discorso a cui credevo molto, cioè che lo stimolo, l'incentivo alla cultura non passi solo per la didattica istituzionale, ma passi anche per invogliare i ragazzi sempre di più a partecipare a iniziative culturali, quali quelli della musica, del teatro, noi infatti adesso partiremo con tutta una serie di eventi, quindi con grande piacere siamo al fianco di questa iniziativa, della possibilità di coinvolgere i nostri ragazzi in attività artistiche importanti. La conferenza stampa di presentazione di Art in Vita si è svolta a Chieti nei giorni scorsi, nella sala del Rettorato dell'Università. Il coro Uda in Canto si esibirà al Teatro Marruccino sabato 11 maggio alle 21, con uno spettacolo a metà tra musica e teatro, di cui parla il TG8 la professoressa Elisabetta Di Mauro, presidente dell'Associazione Musicale e Culturale di Ateneo dell'Università d'Annunzio. Abbiamo accettato di interagire anche con il teatro, anche perché Art in Vita ha proprio questa iniziativa di includere musica, teatro insieme, e ha voluto che i nostri giovani studenti universitari che partecipano al coro di Ateneo includere in questa nuova veste. Abbiamo accettato questa sfida. I studenti che sono parte del coro universitario faranno delle interpretazioni musicali, quindi saranno fuori dalle loro solite interpretazioni, dal loro solito repertorio, e saranno attori e anche musicisti. Il repertorio quale sarà? C'è una regista turca che proporrà un suo spettacolo. Sarà proprio un matrimonio turco, ecco la rappresentazione di un matrimonio turco, con canti, balli, molto movimentati. Sarà molto interessante, non voglio svelare però, pare che non ci sia soltanto il palco a partecipare, ma fuori dal palco ci sarà possibilità di partecipare anche dal pubblico.